Il punteggio, Tolisso, Müller, Pjanic, la gioca profonda su Dybala, servito bene Dybala, Maggio Kic, vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, una per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Eh, si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altre imprese. Non facile per quanto si è visto finora. Due gol in pochi minuti, davvero un momento pazzesco. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0.